allora siamo in partenza per il giretto della mitos proposto dal mitico grande meglio coprire le scritte qua che non bisogna far vedere che di un gruppo che non è proprio parte del bike life che ha tradito che ha tradito e ha tradito anche sì ma ce l'ha ancora l'ha diviso guru conosci tu l'elemento che vuoi fare il gire in seditaria non hai dubbi perché ti aspetta gianca è il peso di uno che conosco me ha messo in modalità turbo non nel motore ma ne le gambe e è partito lui nel peso di uno che conosco me che non posso dire il nome dica che l'ho maledetto gianca è il coglione cucciolo bastardo cuore che abbassa il coro Andate, andate, andate che vi spilmo che figata guarda a querota guarda grazie 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 aspetta cucciolo che non vedo il guru guarda che salto che garantisce quindi il bike park adesso sicuro? sicuro che è giù qua a destra? si perchè questo è il bike park ah questo è il bike park secondo me è lì arriva lui, bello e bello lo devo farlo un minimo credo che non sai cosa che capita questo è stato fatto tutti i salti eh? a questo metro è stato fatto tutti i salti vabbè salti, non è che ti fai salti guarda che bello guarda che è stato fatto 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 salve ti fate una foto per favore grazie dove me lo faccio che si vedono le montagne in dietro non sai che tira dentro la pancia? beh non sei stella sempre dentro molto gentile grazie adesso la giro subito a sergio guarda guarda bellissima bisogna metterla a cambiare foto si no mettiamo la faccia di sergio sotto nell'angolo un saluto a quel di sergio che sarà sicuramente in spiaggia a rosolarsi a quest'ora ciao sergione qua ci stiamo divertendo da matti sì sì è lui è lui è lui sì tu pensierosi vai couturon è una figata o no? mamma mia figata! dove vado? qua o? no ma che figata! perché ti fai paura? no no questo bisogna farlo in sella è perché non si fidano io buono! attenti i forcellini chi ha? ma e fa la gara qua in mezzo? no Grazie a tutti. 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 Mamma che panorama da qua. Questa era già più secca? No, 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 no. Come una volta. E' il cartello? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bello, no, 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 un po' che non passa qualcuno qua un po' che non passa un po' che non passa